Grazie a tutti Il decimo Meridio, andate a cercare sul Vangelo perché ci siamo anche noi, fermano gli ultimi, quindi gli ultimi volevano essere primi, quello sì, ma non ci sono riusciti perché quindi il decimo Meridio ha messo il segnale stop alla squadra di Aspettando il Tattico e di Papilus e addirittura, oltre allo stop, potevamo anche mandarli ulteriormente indietro, ma purtroppo in questo caso è tornata prepotentemente, come sempre, la sfiga nei nostri confronti. E non lo dico perché mi piace lamentarmi, ma a fine video poi capirete se ho ragione o se effettivamente sono uno che si lamenta per partito preso. Comunque allora, come al solito vi racconto brevemente le formazioni che abbiamo messo in campo e da questa puntata in avanti a fine video vi dirò anche tutti i restanti risultati di questa giornata e la relativa classifica. Una piccola miglioria che ho deciso di inserire nei prossimi video legati al fantacalcio, visto che farò meno video, quelli che faccio voglio renderli qualitativamente migliori. Detto questo allora, noi siamo scesi in campo con un 3-4-3 e vi ricordo che la formazione è stata fatta interamente da Luca Mastrangelo, dal mio collega, così come la scorsa settimana sono stato io a farla e lui è stato semplicemente a guardare. Comunque, 3-4-3 con Stracoscia in porta, Godin, Milenkovic e Di Lorenzo in difesa, Luis Alberto, Pjanic, Pulgar e Quadrada a centrocampo e davanti il tridente solito formato da Piontek, Higuain e Inglese. Questa è la nostra formazione. La formazione degli ultimi invece, ora avete capito il perché della mia intro iniziale, sono scesi in campo con un 3-4-3, stesso modulo speculare, con Andanovic in porta, Attebor, Toloi e Cricito in difesa, Chiesa, Ramsey, Kluivert e Froiler a centrocampo e davanti Immobile, Petagna e Gervigno. Iniziamo subito, partiamo proprio con il racconto dei voti e poi mi dite un po' cosa ne pensate. In porta, Stracoscia ci ha preso un onestissimo 6,5, purtroppo dal canto suo ha preso due gol contro il Bologna quindi il voto è calato a 4,5, ma visto che la scelta era tra lui e Radu e Radu si è preso 3,5, va benissimo così, è stata fatta una bella scelta. Godin, voto 6, voto aumentato alla fine perché fino agli ultimi minuti era 5,5, per me era anche giusto il 5,5, lo dico proprio sinceramente, non ha fatto una grande partita, però la sufficienza comunque ci sta tutta. Milenkovic, voto 7, più 3, 10, infatti Milenkovic ha portato alla vittoria la Fiorentina, ha fatto un'ottima prestazione e si è meritato la fiducia del Winnie decimo meridio perché è già la seconda volta che lo mettiamo a titolare ed è la seconda volta che ci porta un bonus molto molto importante. E in ultimo Di Lorenzo si è preso anche lui un buon 6,5, quindi finora la difesa si è comportata dignitosamente e se avessimo avuto magari la difesa 4 con questi voti probabilmente qualche punto in più, forse quello decisivo, lo avremmo avuto ma non stiamo ancora di criminare. A centrocampo, Luis Alberto, voto 6, più l'assist 7, diciamo che sono stati un pochino streminziti però non avendo visto la partita non so se effettivamente Luis Alberto ha giocato meglio o peggio della mera sufficienza, comunque mi prendo tranquillamente il bonus che gli porta ad avere un 7 che per un centrocampista va sicuramente bene. Poi Pjanic e qua io mi incazzo, qua mi incazzo perché Pjanic ha preso 6,5 più 1, cioè l'assist per il gol di Dybala, meno l'ammunizione, voto rimasto a 7, ma per me è una grande cazzata perché per me Pjanic è stato in assoluto il migliore in campo di tutte e due le squadre, quindi penso che un 7 di base ce l'avrebbe dovuto avere. Poi magari con l'ammunizione comunque saremmo rimasti sul 7,5, ma penso che 6,5 sia un voto veramente ridicolo per la prestazione che ha fatto, considerando anche appunto che ha fatto l'assist per il primo gol della Juve, ma tralasciamo questo. Pulgar 7 più 1, l'assist per il gol da calcio d'angolo 8, veramente Pulgar si sta rivelando un acquisto veramente azzeccatissimo, il perno del centrocampo della Fiorentina che sta sfornando costantemente gol e assist, poi è pure rigorista, quindi si può dire che per me abbia fatto un grandissimo. a fare, è preso anche a poco e parlando sempre di giocatori presi a poco, nominiamo Quadrado, Quadrado che non lo ha voluto nessuno, preso a 4, quindi tra le ultime scelte e che ha preso un ottimo 7 pieno, nonostante avesse giocato in un ruolo che non è prevalentemente suo, essendo un giocatore molto offensivo, comunque ha giocato come terzino e ha fatto un'ottima prova, quindi si può dire che almeno secondo me il nostro centrocampo è in assoluto il migliore di tutto il campionato. Qual è il problema però? È davanti, il problema è davanti perché abbiamo una discontinuità davanti di proporzioni incredibili e considerando quello che hanno fatto loro invece davanti, sei vista la differenza tra chi aveva un centrocampo forte e un attacco mediocre e il contrario. Passiamo al nostro attacco però, Piontek 5, Piontek 5, grazie, bravo Piontek, grazie per i tuoi enormi bonus, grazie per aver ripagato la tua fiducia in maniera incredibile, ennesimo 5, adesso vedremo con Pioli cosa cambierà, però vabbè, ecco, se arrivava a Spalletti io ero convinto che risuscitava. Con Pioli ho più di un dubbio, ma comunque, 5 pieno. Gonzalo Higuain, che ha deciso la sfida contro l'Inter, ha preso 7, più 3, 10. Avevo paura che non giocasse, che al suo posto mi entrasse Defrel, che ha preso il 6 di sufficienza ovviamente perché non si è giocato se è solo Brescia, è entrato, ha segnato e si è preso il 10. Bravo Gonzalo, così dovevi fare, finora non avevi mai segnato con noi nel nostro fantacalcio e hai trovato anche tutto il primo gol stagionale, con la nostra squadra ovviamente. E in ultimo, Inglese, che è entrato negli ultimi minuti, questa volta non è riuscito a ripetere il miracolo della scorsa giornata e quindi si è preso un 6 di stima, giusto perché ha giocato negli ultimi minuti e bisognava dargli un voto. Quindi in totale, se avete fatto bene i calcoli, abbiamo fatto la bellezza di 77 punti. Sapete bene che vuol dire 77 punti, no? Che con un cazzo di punti in più avremmo anche potuto fare 3 gol. Vabbè, lasciamo verde, comunque nel fantacalcio lo sappiamo, c'è può dire bene, può dire male. La scorsa giornata abbiamo fatto 80 punti perché Inglese ha segnato gli ultimi minuti e se no probabilmente avremmo pareggiato quella. Quindi si può dire che è una sorta di bilanciamento della fortuna della scorsa giornata, anche se comunque stiamo facendo degli ottimi punti perché la scorsa 80, questa è 77, comunque ci stiamo mantenendo sulla media punteggio decisamente alta. Nonostante i risultati non siano sempre favorevoli. Passando invece alla rosa degli ultimi, Andanovic si è preso un onesto 6. 6, meno 2, 4. I due gol presi contro la Juve. In difesa sono stati fortunati, qua devo dirlo, in difesa hanno avuto una bella botta di culo perché di tutti i diventori che avevano schierato non ne ha giocato quasi nessuno perché Attebor non ha giocato. Al suo posto è entrato Bruno Alves che si è preso 5,5. Toloi ha preso 6 ma da subentrato quindi c'era anche il rischio che lui non giocasse. E in ultimo Crescito che è uscito dopo pochi minuti per infortunio è stato sostituito da Strieger Larsen che però si è preso un 5 pieno. Quindi di tre difensori due non gli hanno giocato quindi se non gli avesse giocato neanche Toloi e poi scoprirete perché avrebbero giocato in 10 e di conseguenza non avrebbero ottenuto quello che hanno ottenuto. Però che vi devo dire? Ha dovuto far entrare Toloi per forza sul 3-0 ma chi se ne frega? Scelte sue, un altro motivo per odiare di più Gasperini. Passiamo al centrocampo. Chiesa, voto 6. Voto giusto anche perché nel finale si è mangiato un gol secondo me molto importante. Ramsey, e ora capite perché mi sono lamentato prima, non ha giocato. Al suo posto è entrato Veretou che si è preso 6,5. Quindi hanno sprecato già i tre cambi soltanto al secondo centrocampista. Klaivert 6,5. Voto secondo me un po' esagerato però vabbè ci sta. E in ultimo Freuler dell'Atalanta anch'esso 6,5. Quindi almeno a livello di centrocampo comunque hanno mantenuto una buona media voto. La cosa positiva per loro è che a differenza nostra hanno un attacco. Hanno un attacco perché Ciro Immobile gli ha preso 7,5. Più 6, doppietta contro il Bologna, 13,5. Tra l'altro avevo saputo in diretta che la Lazio aveva sbagliato il rigore e ho detto dai, ho fatto due gol ma ha sbagliato il rigore. Bene, vado a vedere Correa, 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 maledetto Correa. Però vabbè, ripensandoci probabilmente se ci fosse stato Immobile l'avrebbe segnato. Quindi molto meglio doppietta che tripletta perché sarebbe potuto andare anche peggio. Poi Petagna, 7, più il gol contro chi io non mi ricordo, comunque più il gol meno l'ammunizione, 9,5. Quindi gli attaccanti praticamente gli hanno fatto ottenere il punteggio che hanno ottenuto da soli praticamente. E in ultimo Gervinio, al quale credo sia stato annullato un altro gol ma comunque sì, mi pare di sì, 5,5. Quindi diciamo che va bene perché comunque ultimamente gli stanno annullando parecchia Gervinio in campionato. Quindi il fatto che gli abbiano annullato anche uno contro di noi non mi dà fastidio, ecco lo dico proprio sinceramente. Quindi in totale gli ultimi sono riusciti a fare 74,5. Quindi facendo il computo generale del nostro punteggio e il loro la partita è terminata con il risultato di 2 a 2. Una partita anche in questo caso molto accesa. E diciamo che siamo stati anche abbastanza sfortunati, adesso non mi voglio lamentare di continuo. Però quando abbiamo fatto questi gran punteggio abbiamo trovato sempre qualcuno che li ha fatti altrettanti. Perché molto spesso è capitato in queste ultime partite che ci sono stati dei 65, dei 60, dei 66. Invece noi quando abbiamo fatto 80 abbiamo preso quelli che hanno fatto 76,5. Quando abbiamo preso 77 abbiamo preso quelli che hanno fatto 74,5. Diciamo che come ci è andata bene a noi è andata bene anche ai nostri avversari. Perché comunque non abbiamo quasi mai beccato avversari che hanno fatto poco con noi che invece abbiamo fatto tanto. A differenza per esempio della seconda giornata in cui abbiamo fatto noi 0 e i nostri avversari 4, per fare un esempio. Comunque, come vi stavo dicendo adesso vi dirò anche tutti i risultati di questa giornata. Sex Symbols, Chiavo Veronica, 2 a 0. Manzo Team, SS Fazio, 1 a 2. La Patatonia, Tettenham, 1 a 0. Mi viene da ridere solo lì perché li dico in maniera seria ma non sono numeri per nulla seri. E in ultimo ovviamente gli ultimi Winnie Decimo Meridio, 2 a 2. Vi dico adesso brevemente la classifica attuale con la capolista SS Fazio a quota 11 punti. seguita da Sex Symbols a 9, gli ultimi a 8, la Patatonia a 7, Winnie Decimo Meridio, noi a 6, Manzo Team a 5, Chiavo Veronica a 5, Tettenham 1. È una classifica ancora molto molto corta. E diciamo che siamo proprio nel mezzo. È vero, ne abbiamo 4 sopra e 3 dietro. Ma comunque siamo a un punto da la Patatonia, a 2 dagli ultimi, a 3 da Sex Symbols. Cioè basta una vittoria in più e comunque il campionato prende un'altra piega. Così come basta una sconfitta in più per tornare nell'oblio. Quindi siamo ancora in una situazione ovviamente di stallo. Si può dire però che almeno abbiamo una buona linea di imbattibilità. Perché a parte una sconfitta tutte le altre non le abbiamo persa. Abbiamo fatto 3 pareggi e una vittoria. E secondo me considerando il percorso che stiamo facendo finora probabilmente avremmo meritato qualcosina di più. Il problema è che in questo momento il centrocampo ci sta rendendo tantissimo. Assolutamente ci sta dando bonus a raffica. Ma l'attacco stenta a decollare. E finora abbiamo trovato sempre squadre che hanno vinto e fatto punti grazie proprio agli attaccanti. Quindi speriamo che Piontech e Inglese si sveglino e che soprattutto Higuain giochi con continuità invece di giocare solo come subentrato e da titolare solamente in Champions League. Altrimenti saremo costretti per forza di cose a fare dei cambiamenti nella sessione di mercato invernale. Magari peggiorando leggermente il centrocampo ma migliorando l'attacco che in questo momento è in assoluto il nostro punto debole. Detto questo ragazzi allora fateci sapere dico fateci perché comunque lo riferisco anche a Luca Mastangelo qua sotto nei commenti come è stata la vostra giornata di fantacalcio se avete vinto, perso, pareggiato, bestemmiato, esultato come sempre praticamente le classiche frasi. Ci vediamo presto per un altro video che non so se sarai riferito all'annuncio di Pioli come nuovo allenatore del Milan anche se non ho tanta voglia di parlarne ve lo dico sinceramente. Vedremo un po' si mandrà ma comunque un saluto sempre e comunque forza a Roma e ciao ragazzi. Chi era? Ciao. Ho preso le mosche ho preso. Ciao. Ciao.